Aissù da Ladina, Festival del Lengazzo, dai 2 ai 6 di me del 2018. Quest'anno, l'Aissù da Ladina è rueda sia diesema edizione e l'ha desche argoment, i neves locutore Zladins, gente foresta o da fora per l'atelia, che se dessù resonano il nostro Lengazzo. L'Aissù da Dedicheda al Lengazzo e all'identità Ladina, in momento delle Tegol e Seville ten ambiente da Marevea, e Buffet è indrezza dai protagonisti del Corso di Cosina col Chef Michelin Stefano Ghetta de Martin. Per torperta la scomenzativa, vengono manate se scriverete da che si è fuori ai 27 d'oril del 2018, allo dai servizi linguistici e culturei del Comun General de Fassa. In Zebbia i 3 di me, dall'Escincdo Marena all'Oda l'Agritur el Maas de Moena, conferenza e laboratorie de confronto, il fenomen di neves locutores e sia conseguenze sociolinguistiche e linguistiche. Niente sfida per il Lengazzo di Mandranza? Erresides, esperienze, dubbi e opportunità per il davenire del Lengazzo, di Fernando Ramallo dell'Università di Vigo in Galizia. Laboratorie di approfondimento sul fenomen di neves locutores, na occasione di sebaratteri idei, dubbi e esperienze per il davenire. In vendere ai cater de me, dall'Escincdo Marena all'Oda Baita Ischia a Ciampedel, in Domarena con Bertol, in event da Marevea. Voletevi passare in Domarena con Bertol, a si era e ragionare l'Adin? Bec, no mencia! E presentazione del Liber, la Val di Fassa tra fantasia e realtà, di Alverta Rossi, con attività didattiche per l'Adin e con la partecipazione della disegnadora Elena Corradini. Aducci Bec che tolare a Pert, giovenire a sport e libera di Bant. En sabe dai cinque de me, dall'estrei Domarena, la bandiera ladina, a cui l'Unione di Ladins di Fassa. Approfondimento storico e significato. Del CDA andacca anche ai cinque de me del 1920, le nasce la bandiera ladina dai tre colores, simbol dell'Unità di Ladins, l'Unione di Ladins di Fassa e in via a Duce su un Zof de Sela, l'ex simbol delle amante di Ladins, per conoscere mingol di storia di questo popolo e di sia bandiera. Per girare su un Sela, veniva in direzione a correre a Bant. Secondo se scriverete all'Unione di Ladins, dant dai vinti d'Euril, se a essa da esser burt temp, vennerà fatta una scontreda dell'Istitut Cultura Ladin. In domenica e siede me, dalle Zunes, all'Oda Streda Pente de Sera a Ciampedel, inaugurazione del Stont, neva sezione del Museo Ladin de Fassa. La sola struttura Resteda de Fassa, che ricorda l'attività di Ciceres, che sarcedea a trarre il Tulac, ritadins della vellora milizia popolera che aveva da difendere i confini del Tirol. della scuola e della scuola, attività per Ladin, Magna Diva Ladina e Rua Bertol. De questa settimana, inviandoci Ladins de Fassa a metter fora la bandiera Ladina. Potete la comprare all'Oda L'Unione di Ladins de Fassa. Diezegni dei Sud Ladina, un traverte importante per tutto il Comune General de Fassa. Un esperimento sociale e linguistico con momenti di approfondimento e di festa, con che la defer a ciò che ducchi che stesse fassa, con sia disvaliva identità di Sera a Isis, possa sentire accesa e inedèide a sparpagnare fora e durer, non slengazze della mere. A Isis da Ladina, per l'urera d'um e per zemoser stolz de nostra identità. Vespeton de muie!